Il 55% in meno di turisti stranieri in Italia nell'estate iniziata da pochissimi giorni è la stima dell'ENIT che spaventa e parecchio anche Lecce. È il crollo delle città d'arte e di quelle che hanno puntato negli ultimi anni sul turismo proveniente dall'estero che è destinato, nei prossimi tre mesi, ad avere una flessione del 55% secondo i dati dell'ENIT rispetto allo stesso periodo del 2019. Il problema riguarda gli arrivi dal resto dell'Europa, da Stati Uniti d'America e soprattutto Cina. Basta fare un giro per Lecce per capire che i turisti in giro in questi giorni sono per lo più italiani in molti casi pugliesi e la crisi rischia di aprire una voragine nel settore. I turisti stranieri arrivati in Italia nel 2019 erano stati 64 milioni, quest'anno saranno meno della metà. Al momento, secondo le stime dell'ENIT, resta in piedi, si fa per dire, il turismo nel nord-est d'Italia con viaggiatori provenienti da Austria e Germania per passare qualche giorno al mare con la propria famiglia e il Salento trema come tutte le città d'arte. Grazie 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 Grazie